me lo dici tu io mi avvicino arrivo ok posso togliere buongiorno buongiorno mazza con una bella una bella stella lì sì qui manca e non ce l'ho e non ce l'hai però è un giorno di letizia come si dice oggi perché letizia arriva per la prima volta a flash acquatico di su in per me è un'emozione anche perché trovarmi con questa bellissima ragazza e faccio un totale sorridente di letizia grazie paruscio professione e nuotatrice i 100 e 200 d'orso e poi soprattutto 100 200 d'orso quindi sei collega della tua compagna di marghe di marghe di talapanzi margherita panziere di marghe di talapanzi era un bel impegno perché ve la giocate come bellezza perché siete tutte quante belle bionde non so se il vostro allenatore va scelto con con lumicino ma siete tutte quante belle bionde e dorsiste e poi tutte e due nordiche nordiche cioè da che parte io di como lei e di montebelluna comunque si va bene rimbalzando di como era tempo che non sentevo como cara peruscio come come andrà oggi no allora oggi facciamo i regionali quindi farlo diciamo che chi giovane oggi oggi è un mercoledì 29 e oggi facciamo i regionali 50 d'orso 2 misti quindi un po garete diverse basca e basca del fuori itali con la più bella d'italia la brava brava noi diciamo che roma e caput mundi natatoria la città più bella del mondo con tutto rispetto per cumo no certo come come però anche roma e roma anche perché tutti sei romanizzata io si ho vissuto quattro anni dal 2015 al 2018 poi sono tornata a casa nell'estate del 2018 e non hai resistito e mi sono allenata con gianni leoni per due anni e poi adesso la nostra piscina purtroppo è chiusa quindi la niene mi ha dato la possibilità di che la tua società alla mia società e mi ha la possibilità di scendere di allenarmi qui finché insomma la piscina su non non riprende le sue attività quindi mi hanno molto aiutato sì però voglio dire questa cosa non è che ti turbi molto perché diciamo vabbè a roma si sta bene non c'è niente da dire poi ma tu dove doi a roma e all'acquaniene alla foresteria sì sì in foresteria e tutte le belle donne stanno all'acquaniene dicono cioè e dai che insiste e questo e questo zic del salotto acquatico anzi del flash acquatico allora dicevamo 100 200 qual è la preferita è il 200 200 è più difficile per me da gestire a livello emotivo però è quella che mi piace di più mi dà più soddisfazione ma avere una margherita pansiera spalla spalla allenamento per allenamento in qualche maniera gli si ruba anche un po qualche segreto beh è sicuramente stimolante ti rendi sempre conto che tu fai bene ma c'è chi fa nettamente meglio e quindi diciamo è un input a fare a fare sempre meglio e qual è diciamo così il punto che tu osservi di più che analizzi di più per arrivare a livello pansier a livello pansierabellismo lei è a una frequenza altissima di bracciata cosa che io non ho e la invidio tantissimo perché se io sono molto più lenta faccio più fatica a prendere ritmo e niente quindi cerco di far caso a questo anche Gianluca mi dice sempre cerca di aumentare la leggerezza c'è vedo perché tu sei un fruscello eh sì ho provato a lavorare in palestra con calma ma però la palestra può anche affondare un po' il dorsista dovrebbe essere leggero te lo ricordi Roland Mattes quello che si allenava era un tedesco pazzesco un nuotatore che ha fatto la storia è morto purtroppo quest'anno del nuoto internazionale e lui si allenava col flutte di champagne sopra qui è questa un'abilità molto difficile io ho provato con la bottiglietta dell'acqua ma c'è da c'è da è un po' sbilanciante invece col flutte di prosecco direbbe quella professionista quello professionista no quello direbbe la panzi perché lei viene da Valdobbiade è vero vero da un cuomo non so se usate il prosecco ma penso eh beh il prosecco lo troviamo tutti nella classe acquatica si usa tutto vabbè sì ovviamente quando non sei nel periodo di gare un buon vino non si disdegna mai senti ma allora questo è un anno particolare lo sappiamo tutti quanti purtroppo perché è una situazione che muta di giorno in giorno che idea ti sei fatta e che pensiero hai per il prossimo anno a questo punto allora io spero che si risolva il problema coronavirus nel più breve tempo possibile cercando trovando un vaccino così più che altro perché nel mondo tante persone cioè stanno veramente avendo un sacco di problemi sia noi a livello natatorio olimpiade eccetera sia a livello globale a livello globale è un disastro è un disastro in ogni settore purtroppo quindi speriamo incrociamo la medicina trovi una soluzione senti cara parruccia ci vediamo sette colli? volentieri sì ma con gran piacere tutti quanti al Foro Italico va bene alla prossima con Swim Biz grazie grazie a te ciao